ancora buon viaggio ben trovati muoversi in toscana in studio mauro ciutini sulla firenze e pisa livorno veicoli lenti tra la strassigna e ginestra fiorentina in direzione di livorno lavori sulla 12 la genova rosignano tra colle salvetti e rosignano in direzione di quest'ultimo è chiusa una corsia sul raccordo siena firenze ci sono lavori tra colle valdenza nord e sud in direzione di siena traffico lento sui viali a firenze viale milton belfiore rosselli strozzi monaco e viale redi per quanto riguarda lavori a tranvia fino al 16 di marzo c'è un divieto di transito all'incrocio via pisacane mazzoni per la realizzazione di lavori alla rete enel è tutto per il momento muoversi in toscana con regione toscana città metropolitana di firenze e comune di firenze buon viaggio ci sentiamo più tardi grazie a tutti